Allora, un mazzo di carte, tutte quante diverse l'una dall'altra. Ok. Ok? Allora, guarda, fai una cosa. Qui non so se hai visto, abbiamo una busta e lì c'è la mia previsione. Ok? Tu adesso scegliere una carta, prendi una carta qualunque. Ok. Vista? Sì. Ora, tienila lì con te perché ora apriremo la busta. Qui dentro, infatti, c'è una previsione con la tua carta. Vediamo un po'. Infatti la tua carta è il 2 di picche. No. Come no? No. Allora, effettivamente questa è la carta che mi danno sempre tutte le donne. Sì, però non ho completamente sbagliato. Infatti io qui ho una previsione che combacia con la tua carta. Sì, infatti qui ho lo stesso identico dorso. Eh? E' facile. E' facile. Vabbè, non ti voglio deludere, eh? Non ti voglio deludere. Io qui dentro ho detto che avevo la tua carta e infatti ho il jolly. No. Eh no, ma il jolly è qualunque carta, quindi sarà anche la tua. Ancora più facile. Ancora più facile. Vabbè. Senti, non ti voglio deludere. Io nella previsione avevo detto che c'era una con la tua carta. Ok, io qui ho la tua carta e infatti eccola qua, stampata la tua carta. Eh? E invece sarà stampata quella tua, no? Ci sono tutte. Ci sono tutte. E vabbè, comunque è una bella previsione. Senti, per curiosità, qual era la tua carta? Il 7 di quadri. Il 7 di quadri. Questo qua piccolino così? Sì. Ebbè, sono tutti uguali. Il 7 di quadri. Forse è più grande, però. Il 7 di quadri.